numero 5 più facile da usare di altri schiaccianoci questo modello permette di rompere le noci con piacere questo strumento a molla è fatto di alluminio fuso smaltato con manici di legno di alta qualità che permette di rompere perfettamente tutti i tipi di noci è molto pratico e può anche funzionare come apribottiglie se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 4 questo schiaccianoci è altamente raccomandato per la sua facilità d'uso vi permetterà di aprire i gusci delle vostre noci mandorle o nocciole senza dover fare molti sforzi per usarlo devi solo mettere le tue noci dentro il piccolo contenitore che lo compone e premere la leva per romperle delicatamente con il suo design svedese troverà facilmente posto tra gli altri utensili della tua cucina con la sua impugnatura brevettata e il suo raccoglitore di gusci è un modo facile veloce e pulito per rompere noci nocciole e mandorle senza il rischio di sporcarsi ovunque acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 3 semplice da usare funziona schiacciando i due bracci della pinza una volta che il dado è posizionato nell'apposito spazio questo utensile è facile da maneggiare e sarà più semplice per voi controllarlo inoltre la gomma su entrambi i lati del manico semplifica la presa il marchio l'acor è noto per la sua professionalità da molti anni e questo prodotto non fa eccezione in termini di qualità apre nocciole e noci con facilità e una volta rotto il frutto mantiene il suo interno perfettamente intatto in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 2 uno schiaccianoci a doppia funzione che può anche aprire bottiglie di champagne e tappi di plastica il suo design è molto grazioso e per l'uso quotidiano comodo intelligente e di ottima qualità questo strumento beneficia della qualità della fabbricazione tedesca combinata con gli anni di esperienza di questo produttore lo schiaccianoci ha un manico di legno che permette una stretta molto graduale per non danneggiare la frutta rispetta il cibo e permette di ottenere un risultato eccezionale se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 questo schiaccianoci è stato appositamente progettato per un uso multiplo in grado di rompere anche le mandorle questo utensile è dotato di un design moderato ed estetico rinforzato da una lega nera e grigia poco ingombrante si può riporre facilmente nella vostra cucina grazie al suo semplice meccanismo e alle dimensioni del suo cono potrete recuperare facilmente le vostre noci il che è essenziale per facilitare il lavoro trovi il link di questo articolo in descrizione